La Regione Toscana è pronta ad assumere 310 persone in vari ambiti lavorativi a fronte di un numero pressoché uguale di pensionamenti. Il piano è stato presentato dall'assessore alla gestione del personale Vittorio Bugli che ha spiegato come le politiche degli ultimi anni siano servite a creare lo spazio economico per queste assunzioni ma anche per riconoscere dei miglioramenti contrattuali al personale esistente. In questi anni abbiamo ridotto di circa 5 milioni l'anno i costi della politica, di circa 25 milioni l'anno il costo del personale. Questo ci ha messo in condizione di poter da un lato dare dei giusti riconoscimenti al personale che era 10 anni che era fermo in tutte le posizioni economiche. Abbiamo fatto l'applicazione del nuovo contratto, ora stiamo facendo delle progressioni orizzontali e si concluderanno il prossimo anno o l'anno successivo per sostanzialmente tutti i dipendenti della regione. Abbiamo fatto le stabilizzazioni, abbiamo fatto qualche nuova assunzione di categorie protette. Bugli ha spiegato che un altro obiettivo è quello di abbassare l'età media dei dipendenti della regione che oggi si attesta a 53 anni. Si punta quindi ad assumere giovani e ci sono concorsi destinati sia a laureati che non. Proprio stamani sono iniziate le domande per uno di questi concorsi che appunto porteranno circa 310 lavoratori in più nella nostra regione in vari settori. Il concorso è si è aperto stamani, è un concorso per laureati, si spera giovani, 89 posti. In questa mattinata, già nelle prime ore, avevamo più di 200 domande. I bandi di concorso sono consultabili sul sito della regione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.